buongiorno ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video stamattina mi è svegliato a prendere a spola come ogni mattina diciamo però a napoli non nevicava così dal 1980 vi rendete conto oggi finalmente il 2018 guardate sul tavolo quanta neve le mie piante perché purtroppo non tutti bastano avere un terreno per me per fortuna ce l'ho e quindi indovinate un po cosa faremo si però io prendo l'ombrello davvero sta la neve è top allora seno però forse faceva più freddo ieri che oggi non 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 E' bellissima, è soffice, ma non è fredda, non è fredda, non è fredda, viva le palle di neve, sta nevicando tantissimo. Voglio fare una faccina, ragazzi sono contentissima, però fa freddissima, quindi non posso rimanere, purtroppo, altro tempo qui sotto la neve, che lo so è bellissima, però ora faremo una cosa. Allora, vi vedremo se ci riuscirò, perché la neve è altissima. E' il simbolo, indovinate un po', di YouTube. Guardate, forse non stia vincerando, però, mi sono congelata le dita, ragazzi fa freddissimo, spero tanto che questo vlog, beh vlog poi, vabbè, questa nevicata a Napoli dal 1980 che vi sia piaciuta, lasciate anche se mi like, commentate e ora facciamoci l'ultimo giro. Ciao! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti